Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui da Mirko per una nuova analisi. Oggi andiamo a vedere un giro a Magione con una Clio gruppo A. Ho fatto una forfano con un nuovo gruppo che si chiama Adrenaline Simracing e quindi ho deciso di realizzare anche questo video. Passiamo al giro. Allora, Magione con questa Clio gruppo A. Trazione anteriore, aspiratona. Divertente, divertente. A me piacciono comunque anche le trazioni anteriori. Magione è un po' una pista stretta dove bisogna tanto far puntare l'auto sull'anteriore e far ruotare il posteriore perché ci sono tanti tornanti stretti e il segreto qua è riuscire appunto a caricare tanto l'auto davanti e farla ruotare bene. Iniziamo col giro. Allora, si inizia con il giro di terza, la si tira fino alla quinta e la staccata qua si fa precisamente un 5-10 metri prima della fine della parte più scura dell'asfalto. Ok, precisamente, insomma, più o meno dove ho fermato il video. Come si affronta la prima curva? La prima curva si spigola, si fa una traiettoria a V. Infatti vedrete che io punterò subito l'inizio del cordolo, andrò poi largo e poi tornerò subito verso l'interno cercando il cordolo. Ok? Una spigolata. Vediamo. In seconda si cerca il cordolo esterno, si ripunta subito all'interno. Attenzione con il gas, perché qua è buona regola. Dare un 50% di gas, dai un 50% di gas così l'auto riesce a star bene dentro all'interno della curva e poi pian piano butti giù tutto. Andiamo avanti. Prossima curva, tornante sinistra, quindi bisogna prepararsi immediatamente a destra. Seconda, terza, quarta. Si frena più o meno quando vedete questo cartello a setto corsa. Ok? Qui, a differenza di prima, non si spigola, è una frenata dritta, si tira anche due marce, si fa di seconda e, appunto, frenata dritta, si guarda bene il punto di corda e si inizia, cioè si fa una sterzata secca, diciamo, e si cerca anche qui di prendere il cordolo in uscita. Anche qui, attenzione con il gas, anche se c'è molto più spazio all'esterno rispetto a curva 1, però, ecco, si fa proprio in modo diverso questa curva. Dobbiamo ottimizzare tanto l'uscita perché dopo questa curva ci sarà un breve rettilineo. Ma vediamola. Seconda, si aspetta a girare, si punta il cordolo e poi via. Qui si frena ai 50 metri ed è una chicane molto, molto bella da fare dove dobbiamo arrivare a filo proprio del panettoncino. Non è molto conveniente prendere questo panettoncino perché se lo prendi l'auto va su due ruote e va a finire che la perdi. Bisogna proprio prenderlo appena appena. Bisogna prenderlo appena appena proprio appoggiarsi, ok? Se arriva terza, si butta la seconda, si molla tutto e poi ci si prepara subito a caricare tutto l'anteriore per fare questo tornantino strettissimo. Bisogna, ripeto, puntare ad arrivare a far ruotare il più possibile la macchina perché il tornante è veramente stretto. Io metto anche la prima per avere un po' più di coppia quando usciamo dalla curva. Ma vediamo. Terza, seconda, occhio al panettoncino. Prima farla ruotare il più possibile, occhio con il gas e so tutto. Poi, questa curva a destra, stessa cosa. Bisogna arrivare, non fare una frenata mega, fare una frenata abbastanza lieve e cercare di far impuntare l'auto sul davanti e tenere una velocità di percorrenza più elevata possibile perché qua ci sarà un lungo rettilineo. Quindi dobbiamo puntare a tenere una velocità di percorrenza elevata in questa curva. Quindi cerchiamo di calare poco la velocità. Il posteriore tenderà un po' a scomporsi. Stiamo pronti a controsterzare. Seconda frenatina proprio leggerina non arrivo neanche al 50% come avete visto. E qua c'è il lungo rettilineo dove andremo a sturare completamente questa Clio perché arriveremo completamente a limitatore. E qua freniamo quasi ai 50 metri, ai 70. Ecco. Quando praticamente sparisce il cartello di 50 dal mio montante si frena. Anche qua è una frenata abbastanza decisa ma non la dobbiamo proprio affondare over the limit perché se blocchiamo o comunque se facciamo andare troppo l'ABS va a finire che andiamo lunghi. Questa curva si affronta anche questa a velocità sostenuta. Non dobbiamo rallentare troppo l'auto mi raccomando. e dobbiamo farlo in questo modo dobbiamo prendere il cordolo interno allargare tutto quindi sfruttare tutta la pista all'esterno anche il cordolo che c'è all'esterno e poi ributtarla dentro a destra prendendo il cordolo interno alla curva. Molto importante qua non calare troppo la velocità perché se caliamo troppo la velocità in questa curva non riusciamo a sfruttare tutta la carreggiata e anche il cordolo esterno di conseguenza non portiamo abbastanza velocità e poi non ci troveremo nel punto giusto per affrontare l'altra curva a destra ci troveremo troppo all'interno e quindi dovremo mollare troppo il gas il gas sarà da mollare comunque vedrete però riuscendo a stare molto esterni e sfruttando tutta la carreggiata esterna anche il cordolo riusciremo davvero un inserimento molto buono e dovremo proprio mollare appena appena il gas vediamo terza scaliamo si due marce sfruttiamo tutto fuori la ributtiamo dentro e qua attenzione anche qua è una frenata molto lieve qua si frena praticamente quando finisce il cordolo si vedete un'auto qui perché il miglior tempo l'ho fatto in gara in realtà quello di questo video non è proprio il miglior tempo assoluto ho fatto anche i 6 millesimi più veloce però questo giro qua è diciamo è pulito quindi è proprio un buon riferimento allora entriamo qua nella parte finale anche qua frenata non troppo decisa dobbiamo solo rallentare un po' l'auto perché la carreggiata è larga di spazio ce n'è tanto e dobbiamo tenere anche qui tanto tanta tanta velocità di percorrenza ora adesso non è che dobbiamo fare la 180 però insomma la dovremo fare di seconda e non rallentare troppo cosa importantissima questa curva non dobbiamo puntare ad accelerare subito perché dobbiamo tenersi sulla destra per affrontare le ultime curve che saranno tutte un sacrificio per fare bene l'ultima curva e uscire a fionda verso il rettilineo vediamo qua la terza si scala a seconda si va sopra il cordolo stiamo tutti verso destra in questo momento qua non c'è un vero e proprio riferimento diciamo che tra la fine della curva e l'inizio di questa curva a metà a metà tra queste due curve c'è il punto di frenata ma anche qui è veramente una frenata super lieve è una frenata che serve a far inserire la macchina a far caricare l'anteriore ok è una curva lenta un po' più lenta questa qua anche in questo caso dobbiamo puntare a andare totalmente sopra il cordolo e stare tutto 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 a sinistra per sacrificare la penultima curva sono un po' complicato questo da spiegare però vediamo si va sul cordolo si sta tutto sulla sinistra per poi fa la stessa cosa a destra tutto a destra e si ottimizza l'ultima curva short shifting di terza e si va sul rettilineo la rivediamo un attimo magari insomma questa ve l'ho già spiegata curva a sinistra sopra al cordolo si sta tutto a sinistra vedete si sta tutto a sinistra e poi se si cerca di fare una traiettoria più tondeggiante possibile si posticipa l'inserimento di questa penultima curva perché dobbiamo puntare a stare proprio tutti interni la curva è verso destra e dobbiamo stare tutto a destra dopo questa curva per preparare alla perfezione l'ultima curva non rivediamo vediamo che qua sto tutto a destra ottimizziamo bene l'ultima curva short shifting di terza sfruttiamo tutto l'esterno e via ecco finito il giro di Magona con la Clio Grupo A come sempre ti lascio poi il video intero senza il mio commento se ti è piaciuto questo video lascia un like e iscriviti al canale se vuoi puoi puoi lasciare anche un commento un saluto o una valutazione o qualche consiglio detto questo ti saluto e ci vediamo alla prossima analisi e ci vediamo Grazie a tutti. Grazie a tutti.